Salve, sono Miki Barone e vi accompagnerò nel mondo dell'intrattenimento e del turismo firmato MP Travel & Fun e Enjoy RSH Entertainment. Buon viaggio! Benvenuti nel fantastico mondo dell'intrattenimento di Città del Mare, The Great Village Experience! E andiamo a conoscere MB Travel & Fun. Venite con me! Animation Channel nasce dall'unione delle attività base dell'animazione. Contatto, cabaree, balli di gruppo e spettacoli con l'intrattenimento televisivo e il supporto video. Ah, un set format di ballo! Seguitemi e scopriamo insieme i fantastici prodotti Animation Channel. Animation Channel è Entertainment. Enjoy RSH Entertainment. Benvenuti su Animation Channel, a holiday revolution. Le destinazioni sul Mar Rosso di Enjoy RSH Entertainment sono Ataba. Se vuoi rendere l'animazione nel tuo villaggio unica, originale e indimenticabile, seggi! Animation Channel a holiday